buona serata ancora da firenze smart mauro ciutini in studio traffico lento traffico intenso in a1 tra valdarno e firenze sud in direzione di firenze sempre in a1 veicolo fermo tra arezzo e valdarno in direzione del capoluogo ci spostiamo adesso sulla firenze pisa livorno prudenza viene segnalata pioggia tra firenze e san miniato sulla firenze pisa livorno ricordo per lavori di messa in sicurezza del viadotto ponzano restringimento di carreggiata tra empoli ed empoli est in direzione firenze dal chilometro 24 e 750 al chilometro 24 e 100 divieto di transito agli automezzi con massa superiore a 44 tonnellate domani a firenze ricordo durante tutta la notte la tramvia farà servizio non stop per consentire di recarsi agli eventi di capodanno è tutto buon viaggio grazie a tutti